Napoli-Avellino è una partita dai mille intrecci, tanti i temi che arricchiscono il significato della sfida tra due squadre alla ricerca della prima vittoria stagionale. Sulla panchina dei bianco-verdi, Gennaro Iezzo, il portiere della rinascita del Napoli della scalata alla Serie C al ritorno in Europa, un'avventura condivisa con l'attuale responsabile del settore giovanile azzurro Gianluca Grava. Anche in campo si affrontano da avversari due ex compagni di squadra, che sperano a breve di frequentare altri palcoscenici rispetto al centro sportivo di Sant'Antimo. Sono Sebastiano Luperto e Gennaro Tutino, esterno all'attacco classe 96 in prestito dal Napoli all'Avellino, dove ha i margini della rosa di Tesser. Luolo insolito per Tutino, che gioca da punta centrale nel tente di Iezzo. Per lui si tratta la rima presenza con l'Avellino in gare ufficiali e il destino ha voluto che il battesimo in maglia bianco-verde arrivasse proprio a Sant'Antimo, sul campo che l'ha visto protagonista di tante battaglie con la primavera azzurra. L'approccio iniziale dagli azzurrini è ottimo. Il Napoli vuole portare a casa il primo successo stagionale e abbandonare le ultime posizioni della classifica. Nei primi cinque minuti la squadra di Saurini chiude l'Avellino nella propria metà campo. Al primo minuto Palumbo ispira la progressione sulla fascia destra di Negro, che scarica il pallone a generale De Simone. Sul cross del centrocampista azzurro stacca Spavone, che non riesce a dare forza al suo colpo di testa e Bentivoglio blocca senza particolari problemi. Un minuto dopo il Napoli reclama un calcio di rigore per un contatto tra Ceic e Negro, ma l'intervento del difensore dell'Avellino non sembra meritare l'assegnazione del tiro al dischetto. Al quarto minuto è Carcadella a cadere a terra dopo un contatto con Rizzo, ma anche stavolta il direttore di cara lascia correre. Al dodicesimo, Giunta rischia di complicarsi la vita da solo. Crossa la testa di Petricciolo, il roraccio del portiere del Napoli, che si fa sfuggire il pallone in uscita, ma nessun giocatore è l'Avellino e nelle condizioni giuste per avventarsi sulla sfera. Al diciannomesimo il Napoli ritorna in pressione offensiva. Buona intuizione di Lombardi, che sul calcio d'angolo serve Palumbo al limite dell'aria. L'esterno destro-azzurro realizza un tiro cross, su cui Carcadella, sul secondo palo, per poco manca l'impatto con la sfera. Due minuti dopo, il Napoli sfonda ancora a destra con Palumbo. Sugli sviluppi del suo cross, il pallone arriva a Lombardi, che prova ad incunearsi tra le maglie della difesa dell'Avellino. Lo ferma Sheik, conclude l'azione Gennaro De Simone con una conclusione alla distanza terminata dalle braccia di Bentivoglio. Al ventiquattresimo Tuttino prova a scudere i suoi, come un leone che esce dalla gabbia. Raccoglie palla, va via in progressione, ma quando sta per entrare in area di rigore lo ferma Granata. Al ternasettesimo il Napoli torna a premere e sfonda ancora a destra. Negro serve Gennaro De Simone, il cui cross deviato da Pucca per poco non sorprende Bentivoglio. Bravissimo con un colpo di reni a salvarsi in calcio d'angolo. Il gol è nell'aria e arriva un minuto dopo. Palumbo cambia gioco per Carcatella, che guadagna il fondo, realizza un cross basso al centro. È giusto il movimento dei Lombardi, che si fa trovare pronto all'altezza del dischetto del rigore e batte il portiere avversario con un tilo che si insacca nell'angolino. Il vantaggio scatena l'entusiasmo degli Azzurrini, che raddoppiano due minuti dopo con un'altra azione costruita sulla fascia sinistra. Al quarantesimo Negro raccoglie palla sugli sviluppi di un fallo laterale, scarica la sfera a D'Ignazio, che realizza un gran cross. Lombardi impatta di testa e la mette nell'angolino basso. Il Napoli va sul 2-0 e nel finale di tempo continua a macinare il gioco, sfruttando il momento favorevole. Al quarantaduesimo, Gennaro De Simone salta due avversari e va al tiro, ma Bentivoglio blocca senza particolari problemi. Termina il primo tempo. Il Napoli è in vantaggio di due reti e si è ben pieno controllo della gara. Passano appena due minuti e una protezza di Negro chiude definitivamente i giochi. Palumbo porta pala sulla fascia destra, serve Negro sulla sua corsia. Il centravante azzurro inventa una giocata straordinaria. Controlla il pallone di petto e sfodela una grande conclusione che si insacca sul palo opposto. Stavolta è bella anche l'esultanza, con abbracci e dedica alla panchina. Al sessantaduesimo, il bomber arrivato di Saurini avrebbe la possibilità di realizzare la sua doppietta personale. Ferraro ispira Gennaro De Simone, bravo a trovare lo spazio per servire Negro, che controlla di petto e brucia Rizio al corace, ma tu per tu con Bentivoglio spedisce il pallone alto sopra la traversa. Un minuto dopo, Ravellino prova a reagire, con una conclusione dalla lunga distanza di Schenck, che finisce di poco a lato. Al settantanovesimo, Luise potrebbe festeggiare il suo debutto stagionale in primavera, con un gol. Selva premia il suo taglio. L'ex Juve Stabia batte Bentivoglio con un pallonetto. Ma la terna arbitrale ferma tutto per una presunta posizione di fuorigioco. All'ottantanovesimo, arriva la prima conclusione di Tutino. Il pallone si spegne abbondantemente a lato. All'ottanasettesimo, Bentivoglio rischia grosso. In uscita su un lancio di Palumbo, probabilmente dolca il pallone di braccio fuori alla vera di rigore. L'abito lascia proseguire e l'azione si conclude con un debole tiro di Selva che si spegne dalle braccia del portiere Lavellino. Finisce 3-0 a Sant'Antimo e il Napoli trova il primo successo stagionale alla sesta giornata di campionato e abbandona le ultime posizioni della classifica, dove invece resta Lavellino e Gennaro Iezzo. Questa vittoria può rappresentare il momento della svolta, ma serve continuità a partire dall'asferta di Lanciano di sabato prossimo.